Più che mai per amministrare un comune serve molta determinazione, molta passione, delle idee e anche molto coraggio. Ho deciso di candidarmi perché sono caratteristiche non molto diffuse e che in questo momento ritengo che siano indispensabili. Queste caratteristiche non possono però essere scinte dalla libertà. La libertà personale è la libertà da compromessi. Io esercito un'attività professionale come un'intera nuova, ho anche impegni in altre società e scegliendo di candidarmi ovviamente ho fatto una scelta di vita. Quindi nel momento in cui dovessi candidarmi ufficialmente come sindaco rappresentante centrosinistra dovrò risolvere anticipatamente questi conflitti. Ho fatto la scelta di farlo e lo farò sotto qualsiasi forma. Inoltre siccome la libertà è un elemento fondamentale per poter fare scelte coraggiose che in questo momento servono, io credo che sia fondamentale, specialmente in questo momento delle primarie, dove magari altre scelte sarebbero più paganti, non fare nessun tipo di compromesso a ribasso, non strizzare l'occhio a nessuno, fare una scelta di libertà, fare una scelta sul programma. Io propongo e proporrò ai miei cittadini delle cose da fare per questo Paese e su quello vorrei essere misurato.